come andata oggi con i provini? come andata? senta ce lo fa un saluto a tutto il popolo del web su internet a tutti i tuoi fans di lina vertemuller un saluto su internet tu ci stai su facebook? no si c'è però non ci va ho capito la seguono non ci va salutiamo tutti quanti ciao salutatore blog grande lina vertemuller grazie grande complimenti di tutto ciao